Un'esperienza di 35 anni nel settore bancario, ma una voglia sempre viva di guardare agli spazi innovativi che il mercato può offrire. Massimiliano Salerno è il CEO di BAI, Banca Affari Internazionali. Il filo rosso che lega la mia attività spiega è il Merchant Banking, che offre soluzioni di investimento alternative a quelle tradizionali, come ad esempio il Private Equity. L'attenzione di Salerno è ora orientata al rafforzamento di Banca Affari Internazionali, con la nascita di una soluzione che non ha concorrenza. La digitalizzazione spiega è ormai d'uso comune per tutti gli istituti di credito, ma nessuno ha mai pensato di recuperare quel rapporto umano che ormai si è perso. L'obiettivo dunque è di essere sempre a disposizione dei clienti con una consulenza continua. Il progetto, conclude Salerno, prevede la nascita nel primo trimestre 2024 di Banca By FinTech, la prima realtà digitale che possa offrire, oltre ai servizi di pagamento, anche consulenza specializzata in finanza alternativa attraverso l'apertura delle filiali. Siamo partiti da Torino e presto arriveremo a Roma, Cosenza e Catania, con l'intenzione poi di avviare rapporti di affiliazione ovunque.